TASER Oltre ad altre 11 città è partita anche a Torino la sperimentazione dell'utilizzo del Taser a cura delle pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile di Torino. Sono una ventina i militari che sono stati addestrati per l'utilizzo dagli istruttori specializzati della scuola Carabinieri perfezionamento al tiro di Roma. Al momento la dotazione è di un solo Taser che verrà utilizzato a rotazione. La pistola elettrica, utilizzata a una distanza di 3-7 metri, spara due piccoli dardi che restano collegate alla pistola tramite due fili elettrici a traiettorie non parallele che trasmettono una scarica elettrica a bassa intensità per 5 secondi che immobilizza chi viene colpito. registra l'intervento effettuato. La batteria può garantire fino a 500 scariche elettriche. Sì.